Ciao, questo è Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Io sono Daniele, sto andando in ufficio e parlo di birra artigianale, birra fatta in casa, tutto quanto quello che ti concerne. Sei la prima volta che ascolti questo podcast, ho fatto ascoltare delle puntate precedenti, capace che troverai qualcosa che ti possa interessare e soprattutto ritorna ad ascoltarci. Allora, in realtà questo oggi non voglio parlare propriamente di birra artigianale, ma voglio utilizzare la birra fatta in casa come pretesto per parlare di qualche altra cosa. Per esempio, perché non lanciare questo podcast anche nel fantastico mondo delle ricette per dolci? Ecco, oggi proverò a fare un riassunto di una ricetta per dolci che avevo in realtà l'ho trovato su internet, su Forum Diario a Birra e che ho fatto a casa e per essere sincero mi è piaciuto molto. Avevo un Imperial Stout di circa 9 gradi, che giustamente mi avanzava abbastanza maturo ormai, al top della maturazione. Ha detto, vabbè, facciamoci una birra. Io ho usato una 33 per farci appunto, cioè non facciamoci una birra, facciamoci un tirami stout. Non so se avete mai sentito parlare di questo dolce, altro non sarebbe in realtà che è un tiramisù con, al posto del caffè, l'utilizzo di una birra scura, che è perfetto ragazzi, vi posso assicurare che è perfetto. Allora, oggi proviamo a fare così, sto guidando, quindi vado pure un po' a memoria. Proviamo a dare la ricetta per fare un tirami stout a casa. Ovviamente gli occorrenti sono, oltre ad avere una buona birra scura che possa essere un imperial stout, ma va bene anche una birra scura di più bassa gradazione alcolica, insomma, non è necessario l'alcol in questo caso, piuttosto i sentori che tutti quanti ne terivano da questo stile. E poi che cosa altro servono? Servono 6 uova, servono circa 120 grammi di zucchero, 400 grammi di savoiardi, una confezione di savoiardi è più che sufficiente, poi circa 500 grammi di mascarpone, qui ragazzi comunque è ovvio stavo parlando di tiramisù, quindi non è che ci andiamo molto leggeri, e poi del cacao a piacere per spolverare alla fine. Come si procede? Ovviamente si procede nella tipica procedura per la preparazione di un tiramisù, quindi si separano gli albumi dai tuorli, si montano a neve gli albumi e si mettono un attimo da parte, si montano, 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 con le fruste sarebbe meglio, altrimenti ci si mette 3 anni e 6 mesi, poi si montano pure, si frullano pure i tuorli, dopodiché si aggiungono al mascarpone, fino a far diventare una crema abbastanza densa, abbastanza omogenea, dopodiché si aggiunge agli albumi e si montano e si mischiano piano piano, mi raccomando un trucco fondamentale in questo caso è amalgamare dal basso verso l'alto con una spatola, non frullate perché altrimenti smontate gli albumi e praticamente è come se non avesse fatto niente, ecco vedi Car Brewing in cucina fa faville e poi dopodiché si comincia a preparare appunto dentro una teglia, dentro un contenitore d'alluminio, si cominciano a stendere i savoiardi imbevendoli prima dentro la birra, ovviamente in questo caso è comodo versare la birra anche a temperatura ambiente oppure fredda, questa è indifferente, intanto comunque poi andremo a mettere tutto quanto in frigo perché come ben sapete il tiramisù non è assolutamente cotto, mettete comunque la birra in un recipiente basso e largo per comodità e per far, come dire, per imbevere, non lo so come si dice, insomma per bagnare meglio i savoiardi, ok fatto questo sinceramente non è importante immergere fino a imbevere, ma questo verbo non mi vuole proprio entrare, quindi bagnare fino come una spugna i savoiardi è sufficiente anche appoggiarli appena e poi subito disporre sopra questa teglia in maniera ordinata, dopodiché si passa, finito il primo strato si passa con appunto spalmare sopra la crema precedentemente preparata, poi si possono fare, a questo punto si può proseguire come meglio si preferisce, con tutti quanti gli strati che si preferisce, con l'importante che alla fine si mette un'abbondante spolverata di cacao, ecco fatto questo poi si lascia riposare per almeno 4-5 ore in frigo in modo tale che comunque un po' tutto quanto si amalgama, un po' tutti quanti i sapori vengono un po' mischiati tra loro, un po' tutti quanti i liquidi vengono assorbiti dai savoiardi che a questo punto si impregnano sia di birra che di mascarpone e di uova e ragazzi poi alla fine si gusta il cucchiaio, ecco, questa è la chicca finale, si gusta accompagnandolo ovviamente come preferite, preferibilmente dopo un pasto anche abbondante perché a quel punto se ci dobbiamo far male tanto vale che ci facciamo male sul serio, ecco questa era la ricetta del tiramistout, ripeto io l'ho trovato su aria birra, a caso mai vi lascio il link in descrizione se volete farlo, se volete riproporlo, io sinceramente l'ho trovato molto facile da fare, molto buono, molto ad effetto e poi soprattutto è bello vedere pure la faccia dei commensali che di fronte a una cosa del genere ti dico ah hai fatto il tiramisù? No, non ho fatto il tiramisù, ho fatto il tiramisù out e fai pure lo sborone perché gli lasci pure questa questa storia da raccontare agli amici, ok ragazzi credo che per oggi ho fatto pure troppo, è così presso la mattina che poi già mi è venuta l'altra volta fame, vi ringrazio per aver ascoltato questo podcast tornate, tornate, tornate e iscriveteci carperunichiocciolagmail.com, io sono Daniele, ciao ciao